Dolomiti Beer Trail 2024, gli iscritti hanno già raggiunto quota 750. Mancano due mesi all'edizione di quest'anno ma la celebre manifestazione di corsa in montagna che apre la stagione all'aperto nel Feltrino ha già registrato un boom di iscrizioni. Gli atleti potranno confrontarsi con tre percorsi distinti, la Ultra di 55 km con oltre 3.000 m di dislivello positivo, la Trail di 24 km con 1.400 m di dislivello e il Tour di 12 km e 700 m di dislivello, i tre tracciati per i quali è prevista una partenza scaglionata alle 8, alle 8.30 e alle 9 sempre dalla fabbrica di birra Pedavena, avranno un tempo massimo di percorrenza rispettivamente di 10 ore e mezza, 5 ore e mezza e 4 ore. E della massiccia partecipazione va giustamente molto fiero il presidente dell'Associazione Giro delle Mura, Diego Dacol. Le iscrizioni stanno andando a gonfie vele, abbiamo già superato i 750 iscritti tra atleti nazionali e anche europei. Il nostro percorso è stato riconfermato sulla 55 km nella 24 e nella 12. Abbiamo un'ampia richiesta in questi giorni da varie squadre anche estere e stiamo preparando tutto per raggiungere e superare le iscrizioni del 2023, puntando direttamente a 1.400 iscritti. Noi continua Dacol ce la metteremo tutta per garantire ancora una volta agli amici della DBT una giornata di sport e divertimento entusiasmanti tra i prati e i boschi del nostro meraviglioso parco delle Dolomiti Bellunesi e per l'associazione anche la gioia di una prestigiosa conferma. La soddisfazione più grande è stata a fine 2023 quando ci è stata fatta richiesta di rimanere all'interno del Golden Trail Series, campionato di trail a livello europeo molto molto importante.